Anche nell'evozione del messaggio sono accorto che comunque il servizio mi ero rivolto al sabato degli ottimi libretti, ma in qualche parte alcune parole erano cancellate, ma non erano assambati bene, che ha creato la campagna di polizia a Don Luigi. Siamo ovviamente qui e sapete che è piacere vedere alcuni di voi che sono venuti anche davanti a voi e alcune persone che hanno anche, oltre, dei problemi, per vedere che non si è risaputo, è terribile o bianco, e mi sono dati veramente dentro perché, come sapete oggi, nel proprio secondo anniversario Io non sono molto bravo a parlare di un cazzo, avevo visto a un'inizio d'epoca che il dottore Sareno riusciva da più anni di me, inizio con lui, avevano contato il giro e aveva partecipato e aveva creato il silenzio.